Siamo alla seconda tornata del Palio di Taranto, il torneo dei Rioni sui Gozzi a Due Remi. Appuntamento domenica 24 luglio, si percorrerà tutto il periplo dell'Isola Antica con arrivo nel canale navigabile. Una competizione sportiva ma anche uno spettacolo che richiama da sempre tarantini e turisti, al quale si potrà assistere dagli spalti naturali di Corso Due Mari, ma anche in diretta televisiva sul canale 14 di Antenna Sud. Otto equipaggi si sono aggiudicati alla griglia di partenza, partiremo alle 19, 19.30 dovrebbe finire la gara e quindi decretare i vincitori che sono in lista per la regata dell'8 maggio sempre di questo anno. La premiazione quest'anno sul canale navigabile proprio con una festa, abbiamo chiamata festa del mare, dove vedremo anche una bella sfilata di moda accompagnata da musica e dal vivo. Questo connubio tra la Marina Militare, il Palio di Taranto, le attività marinare, la città di Taranto è sempre più stretto, sempre più connesso come abbiamo visto con SailGP, come abbiamo visto con il campionato italiano di Aquatron. Quindi il castello è un po' sempre di più l'agorà di questa città e noi siamo orgogliosi di manutenerlo, di mantenerlo e di presentarlo ai tarantini e anche ai tanti turisti che arrivano anche con stranieri, che arrivano con le navi da crociera. C'è l'obbligo, non c'è il piacere di ringraziare Francesco Sivanetti per essere stato uno dei pionieri della promozione dello sport proprio sul mare. Stiamo programmando una serie di eventi e soprattutto un cartellone per arrivare a fare proprio una festa del mare, una settimana dedicata a tutti gli sport di mare per l'anno prossimo.